...e proporranno una cover di un brano notissimo di Bob Dylan scritto nel 1973 per il film Pat Gavett and Billy the Kid. Signori e signori, i nostri musicisti di musica, medicina dell'anima per la ricerca in Knocking on Heaven's Door. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti